Mettiamo caso che veramente siamo discendenti di varie razze aliene, cioè comunque qualsiasi cosa mi spaventa meno del Vaticano. Ok. In Russia i generali gli hanno detto che il problema non è stabilire se esistono o non esistono, è stare attenti a non sbagliare nella scelta delle alleanze. Ciao amici! Diciamo, innanzitutto l'ospite di oggi vince un primato, è l'ospite che è venuto in più puntate di Muschio Selvaggio, è la terza puntata. Abbiamo parlato con lui tante volte di testi antichi, di traduzioni dall'aramaico antico, ma questa volta con lui parleremo di alieni. Diamo il benvenuto a Mauro Biglino! Sperando non si sia stufato di questo contesto. Esatto. No, no, no. Bentornato tra noi Mauro. Grazie a voi, grazie Federico, grazie. E intanto se ho vinto questo record è perché mi avete invitato voi, quindi non ho meriti io, ma il merito è vostro. C'è un motivo, abbiamo pensato io e Marra questa puntata perché oggettivamente se fino a qualche anno fa parlare di alieni poteva sembrare una cosa diciamo un po' fantascientifica, diciamo un po' matterella, ad oggi ci sono delle fonti ufficiali, ovvero dei militari dell'aurenautica statunitense che hanno parlato al congresso di avvistamenti alieni. Addirittura c'è un militare israeliano, un ex militare israeliano molto importante che anch'esso ha parlato di comunicazioni che avverrebbero da anni tra gli Stati Uniti e non so, alieni, li chiamerei alieni, e quindi siamo qui a parlarne con Mauro che sicuramente ne sa più di noi e che potrebbe fare anche dei parallelismi rispetto a dei testi antichi in cui probabilmente già già si accennava a questo tipo di rapporto, a questo tipo di promiscuità tra noi e loro. Ne approfitto per dire che è uscito il nuovo libro di Mauro, Biglino, Gli idee della Bibbia che sta andando fortissimo in Italia, ma anche in America che è un po' l'argomento caldo degli Stati Uniti d'America, poi parleremo del Messico, insomma. Iniziamo, vai Marra, dai il via a questa nuova puntata che siamo gasati. Parto con una citazione per Mauro, l'ho selezionata appositamente. Ritengo i fumetti il nostro ultimo legame con una maniera antica di tramandare la storia. I fumetti potrebbero essere una forma di cui qualcuno, in qualche luogo, ha avuto percezione o esperienza. Che è un po' quello che hai sempre detto tu in relazione ai testi sacri, quindi facciamo finta che questa comunicazione attraverso dei testi abbia qualche fondamento. E in relazione proprio all'alieno, all'extraterrestre, cosa puoi dirci? Ci sono state delle comunicazioni che gli uomini prima di noi ci hanno fornito? Sì, allora intanto visto che sei partito con la citazione dei fumetti, devo dire una cosa, che i fumetti, penso alle scritture e i dipinti nelle grotte di Lascaux, eccetera, sono la prima forma di comunicazione, quindi la prima forma attraverso la quale gli uomini antichi ci hanno lasciato delle testimonianze. Penso che i fumetti che si trovano nel Sahara e che riprendono delle figure che chiaramente possono essere rimandate a figure che noi definiamo aliene. Aliene, intanto ricordiamolo, nei dizionari italiani significa diverso rispetto a. Poi alieno ovviamente ha assunto il significato di proveniente da un altro mondo, però alieno appunto significa proprio diverso da. Io, tra l'altro, devo dire che sono un pochettino alieno perché siccome la vostra audience è fatta di persone di una certa età, tutti conoscono il cantante Lewis Capaldi. Certo. Che ha dovuto interrompere un suo concerto a causa della sindrome di Tourette. Io sono affetto dalla sindrome di Tourette e quindi chiaramente devo combattere perché la sindrome di Tourette non perdona, picchia secco e quindi io devo stare attento anche quando parlo, quando ho una parte del cervello che pensa alle cose che dico e una parte del cervello che pensa ai movimenti muscolari e cerca di tenerli sotto controllo, quindi sono parzialmente alieno. Ma i fumetti, io questo l'ho scritto anche nella introduzione della mia collana di fumetti Elohim, dove appunto ho parlato di questa prima forma di comunicazione. e questi fumetti rappresentano molto spesso, penso all'Africa, penso soprattutto all'Estremo Oriente, all'Asia quindi, dove ci sono delle figure che se noi non fossimo condizionati da un pregiudizio che per fortuna, tu hai parlato prima del congresso americano, di ciò che sta avvenendo negli Stati Uniti, che per fortuna sta pian piano scemando, il pregiudizio che fa sì che se uno parla di queste cose è un deficiente. Un po' matto, diciamo un po' matto, uno che si inventa delle cose, uno che ha delle visioni, poi magari vediamo che cosa significa la parola visioni nella Bibbia che come sapete... Certo, poi ricordiamo però che anche Margherita Hack, che è una delle più grandi studiose italiane, diciamo un'eccellenza italiana, ha sempre sostenuto che fosse più probabile che ci fossero forme aliene nell'universo piuttosto che il contrario. Quindi partiamo anche da un assunto dove non solo i matti dicevano che gli alieni sarebbero potuti esistere. Sì, forse l'associazione con la pazia, anche in seguito a dichiarazioni fasulle nel corso dei decenni di persone che avevano detto di essere state rapite e quindi poi si è mischiato anche un po' magari con la science fiction e effettivamente di prove non ne abbiamo avute, concrete o perlomeno tombali, questo è un po' il discorso. Ogni volta poi che qualcuno magari come negli ultimi casi, anche qualcuno di autorevole, si espone sul tema, non tanto sull'affermazione che ha fatto anche Federico, quindi è più probabile che quello è assolutamente corretto. Però quando si va più nel dettaglio, si danno delle certezze, viene spesso detto allontaniamo questa persona, è una mela marcia, si ha lavorato con noi per carità però adesso è impazzito, sta dicendo queste cose ma non rappresenta assolutamente l'America, non rappresenta lo status che aveva. Il mainstream insomma. Questa è un po' la risposta che danno. Invece tu come la vedi proprio in seguito a queste ultime dichiarazioni? Dunque, io devo dire una cosa, non sono propriamente un ufologo, nel senso che il mio contatto con eventuali vite o con le ipotesi sulle eventuali vite aliene deriva dallo studio dei testi antichi. e quindi questo per me è fondamentale. Ora noi pensiamo che i testi antichi contengano dei miti, contengano delle storie, contengano delle narrazioni inventate, contengano delle fantasie, contengano delle invenzioni che gli antichi hanno elaborato per cercare di spiegarsi fenomeni non altrimenti per loro spiegabili. In realtà, se noi facciamo finta che gli antichi ci abbiano detto ciò che hanno visto, tutto diventa estremamente più logico, tutto diventa estremamente più comprensibile, tutto diventa estremamente più razionale. Questo è importante. ma soprattutto più comprensibile. E se noi leggiamo certe testimonianze degli antichi, le leggiamo senza i filtri che ci hanno messo dentro, cioè i filtri dell'allegoria, i filtri della metafora, noi comprendiamo che loro ci descrivevano delle cose estremamente concrete. se volete vi leggo un qualcosa che è un po' impressionante. Perché altrimenti parliamo teoricamente. Poi vi dico una cosa che è proprio da pazzi nel Salmo 24. Ricordiamo che tu stai leggendo la Bibbia ufficiale questa. Sto leggendo la Bibbia pubblicata da Famiglia Cristiana. Che salutiamo tra parentesi. Sono grandi fan del podcast. Non le mie traduzioni. Esatto. Stiamo leggendo un documento ufficiale. Perché io ho tradotto dall'ebraico antico appunto 17 libri dell'Antico Testamento. Lo dico per chi non mi conosce. Poi recuperate anche l'altra puntata con Mauro integrale. Ecco, quindi ho tradotto 17 libri pubblicati dalle edizioni San Paolo, tradotti direttamente dall'Antico Testamento, ma vi leggo alcune cose che sono veramente impressionanti. Cioè se noi prendiamo ad esempio il libro di Ezechiele e leggiamo cose come queste. Nel trentesimo anno, il 5 del quarto mese, mentre mi trovavo tra gli esoli presso il canale Kebar, si aprirono i cieli e contemplai una visione divina. Ora bisogna capire che visione divina in ebraico è Mare Elohim. Che vuol dire concretamente ho visto degli Elohim. Non è una visione come la intendiamo noi. È una visione concreta. Ho visto. Ho visto una cosa. Ho visto una cosa. E dice io guardai e vidi giungere dal settentrione un ruach, lascio la parola ebraica, così almeno ognuno la interpreta come vuole, un vento impettuoso, una grande nubi con lampi e splendore all'intorno e nel centro come il lucicare dell'elettro, cioè l'ambra, in mezzo al fuoco. Al centro apparve la figura di quattro esseri. Faccio presente che in ebraico è al femminile, non è al plurale, eh? Hayot, non Chaim. Le loro gambe erano diritte, i loro piedi erano come zoccoli di un torello, cioè avevano il fondo piatto. Scintillanti come il lucicare di un bronzo levigato. Sotto le ali avevano come braccia umane. Le ali erano accoppiate a due a due. Essi avanzavano senza girarsi, ciascuno avanzava diritto davanti a sé. E vidi al suolo una ruota accanto a ciascuno dei quattro esseri. L'aspetto delle ruote e la loro struttura erano splendenti come il crisolito che è una gemma verdastra, insomma, una olivina. Tutte quattro avevano la stessa forma e l'aspetto e la struttura erano tali che le ruote risultavano congegnate l'una nell'altra. Pensate che descrizione tecnica precisa. Certo. Quegli esseri procedevano ai quattro lati, procedevano senza girarsi. I cerchioni di esse erano alti e tutti e quattro avevano occhi tutti intorno. Cioè avevano dei cerchi tutti intorno. Con gli esseri procedevano anche le ruote e quando essi si innalzavano da terra anche esse si innalzavano. Andavano dove li sospingeva il ruach che viene tradotto in genere con spirito divino. Ma è veramente una traduzione che per dirla in termini biblici non sta né in cielo né in terra. Le ruote andavano dove li sospingeva il ruach. Le ruote si innalzavano simultaneamente perché lo stesso vento, cioè ruach, degli esseri agiva sulle ruote. Se quelli avanzavano esse avanzavano. Se quelli si fermavano esse si fermavano. E se quelli si innalzavano da terra le ruote si innalzavano simultaneamente perché il vento degli esseri agiva sulle ruote. E poi ancora sulla parte superiore della volta che si stendeva sulla loro testa c'era come una specie di trono che sembrava di zaffero. Su questa specie di trono in alto si distingueva una figura che sembrava un uomo. E poi c'è da leggere un sacco. Era entrato in un concessionario praticamente. Ecco esattamente. Però l'immagine che a me viene trasmessa è un raggio con dei cerchi, con dei tizi che fluttuano. Però un trono quindi è proprio una struttura. Una struttura è effettivamente una descrizione tecnica. Sì, quasi di una vettura. C'è poco di allegorico. C'è di un mezzo meccanico chiaramente. Scusatemi il naso che cola. E quindi voglio dire, noi per dire che questa è una visione onirica dobbiamo effettivamente fare dei salti mortali carpiati con avvitamento. Perché questa è una descrizione precisa, tecnica. E poi ce ne sono altre. Una addirittura che dice una cosa che è impressionante. Dice che quando il cavot di Yahweh si alzava da terra, questa me la ricordo, faceva rumore. Ora come si fa a fare un'affermazione del genere? È chiaro che quindi, e qui voglio spezzare una laccia dicendo una cosa che sembrerà assurda a favore dei miei avversari. I miei avversari dicono che la Bibbia non parla di UFO. Hanno ragione. La Bibbia non parla di UFO. Cioè non parla di oggetti volanti non identificati. Sono ben identificati. Bravo. La Bibbia parla di oggetti volanti. Assolutamente. Se vogliamo usare lo stesso acronimo parla di UFO. Identified flying objects. Cioè parla di oggetti volanti che chiama Ruach, che chiama Cavod, che chiama Maefà, che chiama Mercavà, che chiama Cheruvim. E li descrive tutti tecnicamente. Quindi rimanendo sempre nel famoso facciamo finta che. Questi uomini descritti all'interno dei testi sacri, come la Bibbia che c'è appena letto, erano a conoscenza di queste figure, chiamate Elohim, che non erano terrestri. Quindi possiamo parlare probabilmente di alieni. Allora, noi nella Bibbia noi possiamo parlare, se vogliamo essere precisi, e dobbiamo esserlo, possiamo parlare di una civiltà superiore. Di gran lunga superiore. Di una civiltà di individui che avevano delle conoscenze tecniche inimmaginabili per le persone del tempo, che disponevano di mezzi e di poteri veramente inimmaginabili per le persone del tempo. Anche un'aspettativa di vita più lunga, mi sembra. Un'aspettativa di vita molto più lunga. Guarda, tu prima hai citato il mio ultimo libro pubblicato da poco, e qui ho voluto mettere una cosa che non ho mai messo. Una tabella dove c'è, per quanto riguarda i cosiddetti patriarchi antidiluviani, la cronologia delle loro vite. La classifica dei più longevi. E quello che vive di più? Quanto ha vissuto? Esattamente. Chi vince? 962 anni. Porca troia, chi è? Matusalemme. Matusalemme, in effetti. Metuslach, per dirla con precisione. Ma la cosa bella è che quindi questi qui non vanno sommati uno dopo l'altro, ma vivevano in contemporanea. E quindi sono vissuti quasi tutti fino a quando è arrivato poi il cosiddetto grande diluvio. Ma la cosa interessante è che di alieni non parla soltanto quel pazzo di Mauro Biglino. Io ho avuto due colloqui con il professor Avi Loeb, che è un ebreo, che è un decano di Harvard, uno dei 25 personaggi più influenti al mondo nel campo della scienza aerospaziale. E lui crede nell'esistenza delle vite extraterrestri. Ma siccome lui è uno scienziato, lui ne va alla ricerca, giustamente, alla ricerca delle prove. Per me le prove sono le testimonianze che ci hanno lasciato gli antichi. Certo. Cioè mi spiego, se noi in un tribunale abbiamo cinque testimoni che testimoniano di aver visto uno che uccide un altro, quello li viene condannato. Sì. No? Se c'è sulla base più o meno, insomma. Poi ovviamente si cercano anche delle prove, si cercano i moventi, eccetera. Ma qui abbiamo migliaia di testimoni. Antichi, nel senso che la Bibbia è uno dei libri che parla di questo. Abbiamo dei testimoni nei testi dell'Estremo Oriente. E lì, se già vi ho letto delle cose chiare, lì la chiarezza è ancora più evidente. E quindi la mia specializzazione sono i testi antichi. E poi tu hai sempre detto magari partiamo da queste cose e approfondiamole. Quindi ricerchiamo le prove attraverso le testimonianze. Mi verrebbe da pensare che esistono anche testimoni non attendibili, volendo. Quindi uno potrebbe dire... Io faccio un po' lo scettico oggi. Certo, ma è giusto. Ma è giusto. Ma è bene. Però uno potrebbe dire, ecco sì, hanno raccontato delle cose magari con una scarsa magari conoscenza di alcuni fenomeni atmosferici, con una fantasia. E molto spesso tu hai trattato anche altri testi non per forza religiosi, ma anche di epica, ad esempio. I testi omerici. Sì. E quindi magari uno potrebbe dire sì, c'erano un mix di informazioni del tempo. Dettami del tempo, fantasia e appunto anche fede. Quindi per questo si potrebbe dire non possiamo prenderli come testimoni attendibili. Però il discorso che invece fai sul provare a partire anche da lì. Perché no? Per ricercare delle cose lo trovo molto affascinante. Esatto. Se pensiamo che sui testi omerici, per esempio archeologi, sono andati leggendo i testi omerici a cercare le rovine e hanno trovato effettivamente poi delle rovine che poi non si sa se sono attribuibili a troia. Ma qualcosa in sostanza è stato veramente trovato. Insomma ci sono anche diciamo delle cose che combaciano. Una cosa che mi viene da dire è però perché di fronte a così tante testimonianze ad oggi però prove concrete, cioè tangibili, Sant'Omaso, no cos'è che è quello che se non vedo non credo, Sant'Omaso? Sì, Sant'Omaso. Sant'Omaso. Cioè perché ad oggi ancora però prove concrete, reali, tangibili non le abbiamo tra le mani secondo te? Allora, Avi Loeb, questo decano di Harvard, che è convinto dell'esistenza, lui ha catalogato tutta una serie di livelli di civiltà a diverso livello di conoscenza, chiamandole A, B, C, D e quindi dice che ci possono essere nell'universo delle civiltà in grado di fabbricare altre civiltà, lui ha fatto tutta una serie di calcoli, ripeto un decano di Harvard, su una palla infuocata che è caduta nell'oceano Pacifico nel 2014, al largo delle coste della Papua Nuova Guinea e lui grazie a dei finanziamenti che ha avuto perché ovviamente lui se li merita giustamente, vista la posizione che occupa, lui è andato a cercare i residui di questa palla infuocata e ha costruito, quindi è partito con una nave, ha costruito, ha fatto costruire una slitta magnetica e lui ha fatto dei calcoli dicendo che visto che questa palla infuocata è entrata nell'atmosfera e proveniva dal di fuori del sistema solare, entrando poi nel sistema solare nell'atmosfera terrestre ha dovuto subire tutta una serie di cambiamenti e ha detto se ha subito dei cambiamenti noi dovremmo trovare dei residui di metalli fusi di un certo tipo e li ha trovati, li ha trovati e sono delle leghe che noi non conosciamo sulla terra. Ah, finca miseria, questo è già interessante. Esattamente, e questo è avvenuto pochi mesi fa, quindi è una notizia freschissima, mese di luglio-agosto, quindi è una notizia freschissima, tant'è, appunto io ho parlato con lui due volte via Sky, tant'è che adesso lui sta preparando un'altra missione con una slitta magnetica ancora più grande per trovare dei pezzi più grandi e lui ha detto che questo potrebbe essere, intanto questi pezzi sono formati da uranio, polonio, torio, con delle leghe, è molto più pesante di tutto ciò che si trova sulla terra e viaggiava con una velocità che andava oltre la, come dire, accelerazione gravitazionale e quindi dice non è un elemento naturale. certo. E lui addirittura, ripeto, decano di Harvard, è arrivato a scrivere potrebbe essere una serie di voyager alieno. Sapete il voyager, quel satellite che noi abbiamo mandato nello spazio con tutta una serie di comunicazioni per tentare di entrare in contatto eventualmente con altre civiltà e lui ha proprio detto potrebbe essere un voyager alieno. Un tentativo di comunicazione da parte loro. Un tentativo di comunicazione da parte loro. Quindi voglio dire sono in buona compagnia. Parca miseria. Sono in buona compagnia. E poi lui ha messo in piedi questo Galileo Project. Io ho parlato con una scienziata di cui non posso fare il nome per adesso finché non esce lei allo scoperto del Galileo Project. Lei è in contatto con diverse agenzie americane e ha detto in realtà noi conosciamo l'1% di ciò che succede nei nostri cieli. Porca miseria. Però sulla domanda di Fede in relazione alle prove quindi, secondo te, anche collegandomi ai discorsi che hai fatto sempre sugli Elohim, secondo te ad un certo punto hanno abbandonato la terra, queste persone, insomma questi, chiamiamoli alieni, questi non umani, facciamo prima, non adamiti, così siamo più precisi ancora, hanno abbandonato e se ne sono disinteressati. Fino magari ecco a queste... Forse sì, forse no. Ok, ok. Dici di più. Nel senso che il pastore protestante Barry Downing ha detto che gli Elohim sono qui e stanno governando tutto. Ok, ok. Lui è un pastore, quindi è un cristiano, non cattolico, però un uomo di fede, oltre a essere teologo è laureato in fisica ed è un esperto dei rapporti tra religione e scienza, quindi non è l'ultimo degli arrivati. Lui non ha dubbi su questo. Lui non ha dubbi su due cose, dice la religione mosaica è il frutto del contatto tra quelle tribù e degli oggetti volanti guidati da entità intelligenti provenienti da altri mondi e queste entità intelligenti sono qui e governano tutto. Quindi al di sopra di quello che noi vediamo. Un'altra persona mi disse questo circa 3-4 anni fa, una persona che viene spesso chiamata in giro per il mondo ad occuparsi di questi temi, lui è uno specialista, e mi disse che in Russia i generali gli hanno detto che il problema non è stabilire se esistono o non esistono, è stare attenti a non sbagliare nella scelta delle alleanze. Poi chiaramente qui ognuno è libero di credere o non credere, la cosa non mi interessa. Io parlo della Bibbia, dico che la Bibbia non parla di Dio, parla degli Elohim e quindi diciamo fra virgolette lì mi fermo. Però oggi ci stiamo divertendo, stiamo parlando a ruota libera. Un esercizio di stile. Esatto, un esercizio di stile. Non facciamo del male a nessuno. Ma noi, infatti, in fondo, ragazzi, che prova c'è dell'esistenza di Dio? Esatto. Ma infatti io non credo neanche a Dio. No, ma per dire, però ci sono alcuni miliardi di persone che non si pongono nessun dubbio. Certo. Ma questo lo dicono anche, lo scrivono i teologi come Armin Kreiner, che è docente all'Università di Magonza e dice che abbiamo sicuramente più testimonianze di avvistamenti di oggetti volanti che non di testimonianze di ciò che è raccontato nei Vangeli. Miracoli vari. In particolare, miracoli vari e dice che, giustamente, quelli sono testimoni che non possono più essere escussi, come si dice in termine giuridico, che non possono più essere ascoltati. No, questi qui. E invece quelli che abbiamo adesso e sono milioni, milioni, li possiamo ascoltare, ci possiamo far descrivere. E l'abbiamo letto prima nella Bibbia. C'è un altro teologo. Parlavi tu prima del Pentagono, degli Stati Uniti, della NASA, che hanno messo su delle commissioni di altissimo livello, di cui fanno parte scienziati e teologi. Perché il problema che si pone è un problema veramente gravissimo, perché basta poi trovarne uno, e chissà se sono veri i due che hanno fatto vedere in Messico, e questo Andre Davidson dice, vista l'altissima probabilità dell'esistenza della vita aliena, noi dobbiamo porci delle domande, soprattutto sulla cristologia, attenzione, prima che arrivi il grande annuncio. Oh, che significa? È che prima o poi ci sarà un grande annuncio. In relazione agli alieni bisognerà riscrivere tutto, da un certo punto di vista. Bisognerà riscrivere tutto. No, mi sono perso, raga, in che senso? Se domani uscisse fuori una prova sull'esistenza di un alieno... Ah, la chiave di lettura dei testi sacri cambierà inevitabilmente. Ma anche tutte le associazioni a Gesù Cristo come uomo, a quel punto sarebbe il figlio di un extraterrestre, volendo. Esattamente. Ma così come... Che potremmo chiamare Gabriele. E a quel punto potremmo anche rivisitare la nascita delle etnie, in qualche modo. Ma proprio tutta la nostra storia, perché noi, alla fine, considerando anche che siamo in un anno che è dopo Cristo, tutta quanta la storia dell'uomo è stata impulsata dai testi... Anche l'evoluzione umana, in qualche modo. Eh sì, certo. Perché io fino all'evoluzione umana magari ci arrivo, però io sulla nascita delle etnie tu mi sapresti dire qualcosa? Guarda, non ti so dire nulla, ti spiego perché. Perché seguendo gli studi sullo sviluppo dell'homo sapiens ti posso dire che ogni tre mesi, mediamente, esce uno studio scientifico dove il titolo è sempre questo studio rimette in discussione tutto ciò che pensiamo di sapere sulla storia dell'uomo. Cioè uno studio che rimette in discussione lo studio prima. Darwin, sempre sì, che viene rimesso in mezzo. Esattamente. Beh, poi su Darwin ci sarebbe da... Sì. Ma e quindi voglio dire, onestamente ti dico non lo so perché non lo sanno. Certo. Ma la domanda secondo me è anche questa. Voi sareste più affascinati... Vabbè Mauro un po' lo so. Però sareste più affascinati da quest'opzione di prova aliena e quindi di scrittura totale di tutto ciò che abbiamo imparato fino ad oggi o più spaventati? Allora, io sarei gasato. Nel senso che mettiamo caso che veramente siamo discendenti di varie razze aliene. Cioè comunque qualsiasi cosa mi spaventa meno del Vaticano. Ok. E se il Vaticano fosse stato fabbricato da questi alieni? Comunque, mi spaventa meno. Ok. Io sono affascinatissimo, ovviamente, e devo dire che se qualcuno, come dire, si fa mettere in crisi la fede in Dio, da queste ipotesi, vuol dire che ha una fede molto debole. Ah, assolutamente, certo. Perché io di Dio non so nulla e quindi non ne parlo. Ritengo che nessuno ne sappia nulla, tantomeno il Vaticano. Nel senso che il Vaticano dice le cose che pensa sul Dio che ha inventato. Non è che Dio non è un oggetto conoscibile. Su questo sono molto d'accordo. Quindi facciamo finta che esista. Bene, se facciamo finta che esista, che importanza ha che la Bibbia ne parli o meno? Nessuno. Nessuna. Cioè, se Dio esiste è un oggetto di fede e quindi ognuno creda in ciò che vuole. E se ci crede veramente. Ma soprattutto se questa fede lo fa vivere bene, ma se la viva tranquillamente, che problema c'è? Ma anche perché secondo me tutti noi abbiamo delle fedi, delle autoillusioni. Cioè, banalmente, te lo dicevo anche prima, off camera, io spesso mi sono approcciato di due video. Anche semplicemente come una forma di espressione al pari di un'opera cinematografica, di un libro, di un romanzo distopico. E quindi ascoltare quelle cose riempiva la mia vita. Anche se poi non credevo alla determinata teoria. È un qualcosa che migliorava le mie giornate. Esattamente come quando mi approccio ad un testo, che può essere quello di Wells, non Orson, e insomma i primi romanzi di fantascienza, visto che l'abbiamo citati. Tra l'altro il primo romanzo, credo, catalogato come fantascienza dovrebbe essere Frankenstein di Mariscelli. Proprio come definizione. Però, alla fine, se uno rimane con questo tipo di approccio su tutto, quindi ascolto, mi lascio anche affascinare. Che bello, no? Cioè, siamo diventati un po' troppo anche freddi. Poi, se questa cosa non mi va ad intaccare negativamente nella vita, non divento un fanatico che vede gli alieni ovunque, i rapimenti. Perché poi, purtroppo, come dicevo, ci sono state anche queste cose. Nel corso degli anni che hanno un po' rovinato anche il dibattito, no? Che arrivava effettivamente il pazzo di turno, oppure quello che voleva farsi pubblicità. Dicevamo, hanno rapito i cerchi di grano. E questo ha un po' imbarbarito anche, secondo me, la bellezza di queste tematiche. Si rovinano. Certo. Rovinano perché il problema qual è? Che nel momento in cui tu dimostri che quello è falso, quello è falso, quello è falso, tutto diventa falso. E invece ci sono, voglio dire, tra i milioni di avvistamenti che sono registrati, ce n'è qualcuno vero. Tant'è che, appunto, in questi interventi ultimi fatti al congresso americano, queste commissioni istituite dalla NASA, dal Pentagono, ci sono una serie di centinaia di avvistamenti che non sono spiegabili. Certo. E che sono stati fatti da militari americani, cioè gente abituata a vedere di tutto. Certo. Ma facciamo i complottisti. E se queste fake fossero state imposte... Ecco, cioè, è interessante comprendere a livello... Cioè, comunque io credo che anche politicamente ci sia una ragione per tutto, no? Cioè, se oggi comunque il congresso si sia aperto ad ascoltare, a mettere in piedi una commissione per affrontare questo tema, al netto di tutto c'è una ragione politica. Sì. Quale può essere la ragione politica e perché proprio in questo momento? Storico. Teniamole aperte tutte e due. Una è quella a cui ha accennato lui. Una invenzione. Una invenzione perché, come dire, gli Stati Uniti tendono a porsi come i gendarmi del mondo e quindi chiaramente, come dire, se loro pensano o fanno credere che ci sia un pericolo dall'esterno, loro tendono a far credere, non preoccupatevi, vi difendiamo. E tra l'altro questo anche nel cinema lo dimostrano spesso. Nel senso che attaccano sempre la casa bianca questi alieni. Cioè, che cazzo. Cioè, devono difendere sempre gli americani. Gli alieni sono sempre i cattivi e gli americani sono sempre i cattivi. Come con i cowboy all'epoca, tra l'altro. Esattamente. Però se noi pensiamo, ad esempio, agli anni 70-80, a tutti gli avvistamenti descritti in Russia, descritti in Sud America, per esempio nel Brasile, guardate io in mente che a partire dal 50, che tra l'altro è l'anno in cui sono nato io, la Domenica del Corriere aveva aperto una serie di inchieste e che ha portato avanti per decenni, ci sono dei numeri del 67, del 68, eccetera, dove, devo dire, molto correttamente, molto oggettivamente, prendeva in considerazione gli avvistamenti e ne prendeva in considerazione anche l'aspetto critico. Certo. Cioè, come dire, potrebbero essere delle menzioni. Però a un certo punto c'era un titolo grande che diceva 663 di questi avvistamenti non sono spiegabili. Adesso hanno presentato al Congresso americano più di 300 avvistamenti che non sono spiegabili. Chiaro. Ora, il fatto che non siano spiegabili è un'ammissione di debolezza, ovviamente, tant'è che loro li considerano una questione di sicurezza nazionale. Ok. Cioè, non abbiamo i mezzi per comprendere quei fenomeni lì. Esatto. Di comprendere che cosa fanno e, come dire, noi non siamo in grado di contrastarli. Certo. Anche perché quando diciamo non spiegabili fa riferimento a degli oggetti volanti che non seguono le leggi della fisica che noi attualmente conosciamo. Cioè, quindi fanno dei movimenti... Sì. Oppure in grado di aggirare appunto i mezzi di controllo, i vari radar. E dal punto di vista militare è drammatico, in effetti. È un problema. Se una nazione dice io non so spiegarmi cosa succede sui miei cieli. Certo. Tra l'altro, vedendo ciò che sta succedendo sul pianeta Terra, questa è una considerazione mia, ovviamente, se una nazione possedesse veramente tali strumenti, ma nel giro di dieci minuti sarebbe la padrona della Terra. Certo. Certo. Perché non si fanno mica scrupoli. Scherzi. Cioè, voglio dire, la lotta che c'è per il potere è tale... Ah, no. Poi soprattutto gli americani mi vorrebbe da dire se avessero in mano qualcosa del genere. Ecco, è tale per cui chi ha in mano qualcosa del genere dice agli altri, cari ragazzi... Ma l'abbiamo già visto. State calmi. Assolutamente sì. Esattamente. State calmi perché vi metto a tacere in un attimo. Sì, sì. Quindi questo ovviamente fa pensare che almeno alcuni di questi avvestamenti siano veri. E devo dire che è sufficiente che uno sia vero. Ah beh, certo. Assolutamente. Uno. Adesso poi hanno fatto vedere questi due esserini in Messico. Eh, ma poi non è venuto fuori che era una mezza roba fake? Sì, sì. Sì, è venuto fuori che era una mezza roba fake ma questo avviene per tutto. Ok. Adesso le hanno messe a disposizione di tutti gli studiosi del mondo e io di fatti vado sempre molto cauto e aspetto. Chiaro. Sì, io l'ho visto un po' spernacchiati nel senso che da quello che ho letto avevano fornito a determinati laboratori insomma dei campioni da analizzare però non hanno dimostrato che fossero provenienti da quella roba lì e quindi poi hanno cominciato a dire vabbè ma hanno fatto una roba così folcloristica oppure per cercare di tenere testa ad altre nazioni. Io l'ho vista molto soprattutto l'America come diceva anche Federico una sorta di guerra fredda sul primato. Sì. Cosa che è sempre stata la guerra fredda per arrivare alla luna esatto, per arrivare alla luna il conflitto tra Russia America adesso chi arriva prima all'alieno mettere la bandierina noi americani sono anni che già perché non è la prima volta che ne parlano in realtà anche a livello istituzionale cioè negli anni ogni tot disseminano questa cosina per dire noi da nuovo che lo sappiamo però e quindi aspettiamo 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 con calma tanto fra virgolette non ci cambia la vita assolutamente non abbiamo considerato una terza opzione che potrebbe essere veramente un'opera non solo di finzione ma che verta in qualche modo ad essere un'arma di distrazione di massa in qualche modo rispetto ad altri avvenimenti che stanno succedendo o che succederanno geopoliticamente vero però secondo me ad oggi non così efficace perché arma di distrazione di massa sì la si poteva capire anni 50 anni 60 vabbè ci fu prima citavo Orson Welles ci fu un racconto della guerra dei mondi fatto alla radio in cui alcuni americani scapparono di casa perché lui lesse questo testo di fantascienza la guerra dei mondi dell'altro Welles in radio e molti americani insomma scapparono poi fu gonfiata dai giornali quindi in realtà molto più contenuta però erano epoche in cui forse era più credibile quindi magari la paura dell'alieno poteva effettivamente spostare l'attenzione ad oggi secondo me è difficile che qualcuno magari perda di vista il conflitto Palestina Israele o la guerra in Ucraina perché c'è la paura dell'alieno secondo me è stato anche molto diluito con l'arte aggiungerei che da un certo punto di vista c'è addirittura la speranza vabbè certo è vero forse staremmo meglio cioè c'è addirittura la speranza che intervenga qualcuno a porre fine a questo caos che stiamo vivendo cioè qualcuno che abbia veramente il potere di dire adesso basta di mettere ordine ecco che paura ecco questa cosa però un po' mi fa paura ma è qualcuno che può arrivare a mettere ordine sicuro l'abbiamo già visto in passato non so un po' mi fa paura un po' un pochino ce lo vedrei l'alienetto tutto vestito un pochino mi fa paura però saluto marziano invece c'è da se non sbaglio Mauro un ex militare israeliano che ha fatto delle asserzioni totalmente diverse cioè lui non ha parlato di avvistamenti ma credo abbia parlato proprio di comunicazioni che avvengono tra alieni e determinate nazioni sì è Chaim Eshed che era l'ex direttore del sistema di difesa aerospaziale israeliano lui in effetti ha detto che Israele e Stati Uniti sono in contatto da tempo sì anche qui come dicevi tu prima non è stato anche lui sbeffeggiato perché l'ha detto quando è andato in pensione certo quindi ovviamente l'ha detto in un momento in cui non aveva più fra virgolette nulla da temere per la sua carriera peraltro devo dire che il pentagono ha sta spingendo i militari americani e coloro che fanno degli avvistamenti a raccontare e ha detto che bisogna smetterla di appunto ironizzare su quelli che parlano degli avvistamenti perché prima venivano sottoposti a tutta una serie di vessazioni che partivano dal blocco della loro carriera venivano messi in mano degli psicologi a degli psichiatri venivano allontanati adesso invece li invitano a parlare quindi c'è stato comunque un cambio di rotta c'è stato effettivamente c'è stato anche perché i sistemi di comunicazione rispetto a 40 o 50 anni fa fanno sì che la diffusione dell'informazione sia tale per cui messa in rete in un attimo può essere vista da miliardi di persone e quindi diventa molto più difficile tenere sotto controllo questo tipo di avvistamenti la stessa cosa avviene per la chiesa capisci fino a 40 o 50 anni fa la chiesa era veramente la detentrice del potere della conoscenza sui testi sacchi adesso sono tanti che li studiano e quindi sono tanti che li comprendono e quindi a questo punto diventa più difficile e diventa necessario andare incontro ad una divulgazione maggiore rispetto a ciò che invece poteva essere tenuto sotto controllo alcuni decenni fa non possono più tenersi la loro narrazione in qualche modo ma devono venire incontro anche a voci discordanti una roba che mi chiedo io è se mai metti caso perché poi alla fine è quello che ci serve è una prova tangibile una prova tangibile ecco quello che mi domando è ma ad oggi nel 2023 con tutta la tecnologia per poter fare degli artefatti ad hoc quanto sarebbe probabile che un video venga considerato effettivamente non manipolato e non fatto al computer è difficile se fossimo stati negli anni 30 ma infatti è duplice il discorso perché da una parte potresti non credere ad una cosa vera perché è facilmente replicabile però dall'altra magari potresti fabbricarla quindi in realtà questo è il paradosso come dici tu magari anni 40 esce fuori una cosa completamente non replicabile per quello rimane più affascinante secondo me analizzare una cosa che è immersa nell'ambra ed è cristallizzata nel tempo come sono i testi sacri perché c'erano meno mezzi perché sai che c'è un testo a cui comunque noi abbiamo dato una valenza è incontestabile dire che su questi testi si sia basata la nostra società civile ok quindi allora trovo più affascinante partire dal pezzo di carta piuttosto che dal video di una roba che fa capito sì più affascinante sicuro mi hai tolto le parole di bocca nel senso che noi adesso possiamo fare giustamente tutte le ipotesi sui falsi sui fake io mi chiedo che interesse potessero avere coloro che hanno scritto i Purana coloro che hanno scritto i Rick Veda coloro che hanno scritto i Veda i Vedanta coloro gli stessi che hanno scritto la Bibbia coloro che hanno scritto i testi Maya coloro che hanno scritto i testi degli Asi su nel nord Europa a scrivere dei fake con dei livelli di descrizione tecnologica così precisi e soprattutto la cosa affascinante ed inquietante è che ci sono molte similitudini tra queste figure e tra queste descrizioni anche in testi sacri di popolazioni molto distanti non comunicanti molto distanti tra loro esattamente esattamente se noi pensiamo che nell'estremo oriente erano descritte anche le diete di quelli che pilotavano erano descritte anche gli abiti di quelli che pilotavano che interesse potevano avere soprattutto pensando al fatto che noi ci dobbiamo porre una domanda quanti erano che sapevano leggere certo quindi non era un'opera di manipolazione quindi sono delle scritture che avevano probabilmente il compito di tramandare delle conoscenze ai culti all'elite che mio avviso erano concrete certo perché altrimenti alla gente era sufficiente raccontare certo certo e raccontando potevi inventare quello che volevi invece quando mettevi per iscritto ovviamente dovevi tentare di rimanere quanto più possibile fedele a ciò che era stato visto certo e quindi quando appunto abbiamo letto prima ma nella Bibbia ce n'è da leggere finché si vuole quando certe cose vengono descritte con questa precisione tecnica uno si chiede perché bastava dire ho visto una cosa che vuole questo è vero poi ci sono altri esempi di vetture all'interno anche della Bibbia di queste descrizioni che poi sono state cambiate ovviamente dalla teologia con la nuvoletta di turno l'apparizione di turno esattamente come ci hai dimostrato tu in molti passi c'è qualcosa che sembra più da quattro ruote a rivista che è una roba insomma alla David Lynch mancano le quotazioni dell'usata esatto e invece cosa ci sai dire sui testi omerici per esempio lì parliamo di una religione politeista di mezzi uomini mezzi dei che si mischiavano con la popolazione sì e quindi dove sono le analogie dove sono le differenze e che cosa ci può raccontare ci possono raccontare quei testi ma di questa mescolanza tra uomini e cosiddetti dei parla anche la Bibbia certo nel capitolo 6 della Genesi e dice che i figli di queste mescolanze erano i cosiddetti eroi dell'antichità lo dice espressamente di facendo riferimento alla Grecia e la Grecia parla degli eroi dell'antichità cioè addirittura come dire utilizzano la stessa terminologia e a questo punto se noi io l'ho fatto in due libri pubblicati da Mondadori se noi mettiamo a fianco i racconti biblici e i racconti omerici ci accorgiamo che parlano delle stesse cose parlano degli stessi individui che usavano la stessa tipologia di mezzi che avevano la stessa tipologia di esigenze esigenze anche proprio fisiologiche che avevano le stesse aspirazioni che avevano gli stessi tipi di atteggiamenti e di comportamenti nei confronti degli uomini tenendo presente che a differenza dei poemi omerici la Bibbia concentra la sua attenzione su uno di questi individui sul cosiddetto Yahweh che poi è stato fatto diventare il Dio ma mentre la Bibbia nel corso dei secoli è stata fatta diventare la base di una religione monoteista per fortuna l'Ilia dell'Odissea no l'Ilia dell'Odissea che non avevano questo obiettivo hanno mantenuto la molteplicità di queste molteplicità che peraltro c'è anche nella Bibbia ma hanno mantenuto con maggiore chiarezza con maggiore evidenza la molteplicità di questi individui e quindi questo ci consente di capire ancora meglio di chi si sta parlando diciamo che il pantheon delle divinità greche è il corrispettivo degli Elohim il plurale è esattamente la stessa cosa avevano esattamente le stesse esigenze dove sono le similitudini per esempio nelle esigenze in questi femminili le esigenze erano per esempio la necessità di mangiare la necessità ovviamente insomma di nutrirsi in genere mangiare e bere la necessità di farsi servire dagli uomini la necessità il piacere di unirsi con le femmine degli uomini la necessità stranissima ma chiaramente descritta di annusare il fumo prodotto dal grasso animale bruciato tant'è che addirittura uno degli dei omerici nella fattispecie mercurio quando viene mandato in missione in un certo posto si lamenta perché dice lì oltretutto non ci sono neppure gli uomini che ci preparano quelle cose che ci piacciono tanto non si può attribuire ad un dio una roba del genere io sapevo che nella bibbia ci fosse il fatto che non so se gli elohim o Yahweh si rilassasse con il grasso bruciato esatto era Yahweh o era un elohim in particolare erano tutti tutti quindi questa cosa c'è anche nei testi omerici ma c'è anche nei testi sumeri incredibile questa cosa è molto strana in effetti perché se possono esserci magari similitudini i racconti è troppo specifica è una cosa molto specifica io dico magari che ne so popoli che non hanno mai comunicato vedono il tramonto vedo una cosa che vuola però dire che ci sono dei personaggi che si rilassano bruciando del grasso animale non ha alcun tipo né di allegoria troppo specifica molto specifica e molto concreta capito quella è veramente inquietante infatti come questione è difficilmente spiegabile come dicevamo prima in relazione ad altri esempi perché ecco non è un fenomeno atmosferico particolare che ognuno descrive in maniera simile perché gli strumenti culturali anche intellettivi grasso animale bruciato che questi annusavano e si rilassavano che è una cosa che a noi umani non ci fa rilassare esatto è anche una cosa capito che è una cosa impropria per noi ma la domanda è se tu vuoi parlare del tuo dio ti viene in mente di inventare che il tuo dio si rilassa annusando del fumo è molto specifica come dicevamo un'altra cosa puoi inventare un sacco di cose certo ma facciamo un riassuntone Mauro cioè sempre ragionando come se no il riassuntone sarebbe che dalla Bibbia si evince che noi cosa siamo noi siamo fabbricazioni bravo noi siamo il prodotto dell'intervento di ingegneria genetica fatto dagli Elohim sull'Homo erectus e sull'Homo habilis per trasformarlo in Homo sapiens e poi sapiens sapiens al fine di creare una specie che fosse in grado di comprendere e eseguire ordini per conto loro degli schiavi e quindi loro ci hanno addomesticati e noi abbiamo tutte le caratteristiche degli animali addomesticati ma questo lo dicono i biologi lo dicono gli antropologi noi abbiamo tutta una serie di caratteristiche che sono tipiche delle specie addomesticate delle specie animali addomesticate prima fra tutte la neotenia cioè il fatto che noi da adulti anche fisio anatomicamente manteniamo le caratteristiche che avevamo quando eravamo cuccioli cosa che negli animali invece non è se tu prendi la fotografia di uno scimpanze cucciolo fai la foto del volto e la foto del volto di quello scimpanze quando ha dieci anni tu vedi due individui completamente diversi però se io prendo un cane è più o meno uguale no 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 però ha domesticato il cane ma il cane ha domesticato il cane ha domesticato hanno fatto in Russia hanno fatto degli studi sulle volpi ad esempio dove cambiano tantissimo cambiano i comportamenti se tu prendi uno scimpanze piccolo hai il cranio che è esattamente uguale al nostro ha la faccia schiacciata che è esattamente uguale alla nostra se tu prendi quello stesso scimpanze invece diventato adulto vedi che ha il cranio allungato il mento la mandibola allungati cioè cambia completamente noi invece neotenicamente manteniamo le stesse caratteristiche ed è ciò che avviene quando si procede con l'addomesticamento però non riesco a collegare il fatto che manteniamo cioè in che modo ci addomestica questa cosa questa caratteristica questa caratteristica ci addomestica nel senso che noi manteniamo quell'aspetto che abbiamo da cuccioli perché è l'aspetto che ci rende più accettabili agli altri ok ok peraltro il collaboratore di Darwin dieci anni dopo la pubblicazione dell'origine delle specie scrisse a Darwin che la loro teoria vale per gli animali ma non vale per l'uomo sì poi anche lui è un altro che è finito credo che poi questa sia io poi credo che la teoria poi lui si è dedicato ad altri studi certamente sì sì no ma era per dire che anche lui poi negli anni è stato un po' diciamo ridicolizzato contestato è stato ridicolizzato e contestato perché perché il darwinismo è stato fatto diventare una religione ma credo che poi di tutte le tue teorie quella genetica sia la tua teoria più contestata poi perché io ricordo quando ti portammo in prima puntata ci hai fatto un piccolo accenno in realtà e si sono scatenati un sacco di video ovviamente noi portiamo un ospite che racconta la sua idea non è escluso che poi potremmo anche aprire un dibattito in merito a ciò perché comunque è interessante proponeteci un ospite proponeteci un ospite dibattito con Mauro ovviamente lui è d'accordo ma non mi pare che sia mai sottratto a nessun dibattito mai sottratto ho fatto un dibattito con perché è interessante la teoria di Mauro che hai portato avanti non da solo so sul fatto che l'uomo comunque nella sua evoluzione debba aver avuto un intervento esterno per avere quel tipo di evoluzione esattamente ok sono tranquillo perché sono sempre di più i biologi che lo dicono compresi i docenti universitari diciamo che effettivamente ci sono degli aspetti molto interessanti come il fatto che alcuni tratti in realtà negativi che teoricamente avremmo dovuto lasciarci alle spalle nella selezione naturale comunque sono rimasti un po' come succede con gli accoppiamenti che facciamo noi tra canidi quindi noi scegliamo dei tratti ma non sono tratti funzionali in natura in natura anzi sono tratti sono dei malus noi non sopravviveremo già il fatto che non abbiamo i peli ma anche il neonato se ci pensi nel senso ha bisogno di una cura veramente prodatta per molti anni a differenza di altri però qua ci stiamo adentrando in una roba è per dire che in realtà le domande sono tantissime ed è affascinante poi la scienza chiaramente ha già dato delle risposte alle sue risposte ufficiali e ovviamente io come dicevo essendo di natura molto scettico vado dato che non ho le conoscenze per contestare la scienza vado per ciò che la comunità scientifica mi dice volta per volta però questo non questo non mi preclude di fantasticare di fantasticare di farmi delle domande poi un conto è affermare no la scienza ha detto una cazzata su Darwin quello è un altro discorso esatto allora io di fatti vado nella direzione di ciò che mi dicono i testi antichi che è un'altra cosa capito che è un'altra cosa e quindi vado nella direzione di ciò che leggo anche ciò che dice la scienza che la scienza parla del modo casuale in cui ad esempio il come dire il frumento che nasce spontaneamente ad un certo punto in tempi brevissimi è diventato il frumento utilizzabile dall'uomo ma in tempi dal punto di vista naturale brevissimi e non spiegabili chiaro ma tu allora e io cosa faccio metto assieme a ciò che dicono i testi antichi allora la scienza mi dice i tempi sono troppo brevi i testi antichi dicono a coltivare il frumento ce l'hanno insegnato quelli là e io metto assieme le due cose poi io non so se sia vero certo 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 però dico che le due cose assieme ci stanno bene e una risponde all'altra chiaro chiaro e ti faccio da quanti anni fai questa questa opera di divulgazione Mauro opera di divulgazione dal 2010 dal 2010 no di studio dal liceo dal liceo cioè adesso ho 73 anni hai 73 anni si cazzo riporti bene devo dire grazie è vero riporti bene ma senti senti qua io vorrei sapere le domande che ti fai tu perché dopo anni di studi anni di divulgazione ti sarai domandato perché e io vorrei sapere da te cioè secondo te sono ancora qui questi Elohim non sono non sono più qui c'è una ragione c'è un senso cioè quali sono le domande che oggi tu ti poni e se a queste domande ti sei mai dato una risposta o se ci sono delle domande a cui non riesci ancora a darti una risposta allora per fortuna ci sono molte domande alle quali non riesco a darmi una risposta dico per fortuna perché a me piace vivere nel dubbio cioè nuotare nel mare della relatività per me è bellissimo ritengo che chi pensa di avere una verità è pericoloso perché chi pensa di avere una verità ha il bisogno innato di imporla sto per dire con qualunque mezzo perché non può accettare che gli altri non l'accettino io invece vivendo nel dubbio accetto tutte le possibili verità io dico leggendo e studiando a me viene fuori questo dopodiché è vero non lo so certo non lo so e quindi accetto ciò che dicono gli altri mi pongo delle domande su ciò che dico io mi pongo delle domande su ciò che dicono gli altri e la cosa che faccio è cercare di capire dove mi pare di cogliere maggiore coerenza non la verità certo maggiore coerenza allora se io leggo che la scienza dice forse non sapremo mai come è avvenuto che le spighe di frumento che avevano uno o due granellini sono diventate quelle spighe di frumento piene belle cicciotte con le quali noi oggi facciamo la farina forse non lo sapremo mai e leggo i sumeri che dicono noi mangiavamo l'erba dei campi come gli animali poi sono arrivati loro e ci hanno dato il frumento e ce l'hanno fatto coltivare allora io dico dove dov'è la maggior coerenza dov'è che posso ipoteticamente trovare una risposta e mi chiedo i sumeri che erano di una precisione ragionieristica nel momento in cui registravano tutto ciò che avveniva nei loro magazzini c'era anche un costo con un costo perché non è come noi che ci mettiamo davanti al computer poi non ci piace cancelliamo cioè l'imparare a scrivere costava erano in pochi scrivere costava le tavolette costavano e allora perché erano accettiamo la precisione da una parte e non l'accettiamo dall'altra perché accettiamo che i babilonesi usavano la geometria trapezoidale per calcolare l'orbita di Giove e la calcolavano con precisione e poi dicevano Giove è un dio come si fa a calcolare l'orbita di un dio loro abbinavano un dio ai pianeti non è che dicevano che il pianeta era un dio com'è che i babilonesi conoscevano il teorema di Pitagora mille anni prima dei greci mille anni prima dei greci com'è che i babilonesi conoscevano il rapporto tra la diagonale e il lato del quadrato la radice quadrata di due i numeri irrazionali mille anni prima di Pitagora e noi qui in occidente continuiamo a dire che Pitagora ha scoperto i numeri irrazionali e diceva ai suoi discepoli al di fuori della nostra cerchia non bisogna parlarne tant'è che uno dei suoi discepoli se non ricordo male il parco di Samo ne ha parlato all'esterno uscendo ovviamente dalla cerchia di Pitagora e loro l'hanno bruciato in effigie non bruciato fisicamente bruciato in effigie per definirne una definitiva condanna ma i babilonesi sapevano questo allora come facevano i babilonesi a essere così intelligenti dal punto di vista scientifico ed essere così stupidi da venerare esattamente da venerare delle statue prive di vita ma noi non veneriamo le statue prive di vita quando tra duemila anni scaveranno qui perché tra duemila anni tremila anni scaveranno qui troveranno migliaia di effigie di uno ecco bravo bravo ottimo inserimento troveranno migliaia di effigie di uno crocifisso su una croce le troveranno in legno in plastica in metallo in marmo in pietra in tutto quello che vuoi tra duemila anni quando scaveranno qui troveranno quello lì in croce le madonna in tutti i modi possibili immaginabili padre padre Pio santa Teresa le immaginine statue di ogni genere il mago telma ancora vivo ovviamente e che cosa diranno tra duemila anni il cristianesimo era una religione politeista cioè venerava un dio con suo figlio i santi che aveva una madre centinaia proprio veneravano centinaia di divinità intermedie alle quali si rivolgevano e i babilonesi che avevano avevano Marduk per dire e poi avevano gli Shadu che erano divinità intermedie gli ebrei che avevano Elyon poi avevano Yahweh e a un certo punto Yahweh l'hanno fatto diventare il dio unico e poi avevano altri Elohim poi Yahweh ha proibito di fare immagini e Yahweh sarebbe il padre di Gesù ma se noi usciamo di qui e entriamo in una chiesa la troviamo piena di statue e di immagini ma Yahweh non ha mai proibito cioè scusate non ha mai tolto questa proibizione questa proibizione del dio padre è tuttora valida noi dovremmo entrare nella chiesa con la bibbia e dire via tutta quella roba lì via è superstizione lui qui l'ha detto molte volte se fate una roba del genere vi ammazzo carino come sempre se fate una roba del genere vi ammazzo noi siamo pieni si dice ah ma i romani i poverini io sono in contatto con diversi professori docenti anche se poi molti di loro li capisco li capisco e non glielo chiedo neanche non si espongono non si espongono ma li capisco e mi sta bene così mi espongo io ce n'è la sufficienza i quali parlano della religione romana e i romani avevano i lari i dei lari cioè gli dei di famiglia ma quante sono le famiglie che hanno padre Pio sul comodino ne trovi uno a quartiere praticamente esatto ma uno a quartiere sì ma quanti sono che hanno Santa Teresa sul comodino San Gennaro San Francesco troppi ce ne stanno di quelli elite e che differenza c'è tra i lari dei romani nessuno questa è una bella considerazione sul fatto che siamo una religione politeista siamo una religione politeista ma attenzione Gesù non è mica il primo se si va la classifica pubblicata a suo tempo anni fa da famiglia cristiana Gesù non è mica il primo a essere in bocca hanno fatto una classifica mi sa che l'avevo pure letta la Madonna se non sbaglio la prima la prima per un certo punto era Santa Teresa Davila ah più di Gesù più di Gesù ma perché 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 la gente ha bisogno di una figura di riferimento vicina bravo che possa sentire vicina sì sì Dio è lontano eh sì anche Gesù è lontano non si sa Gesù è lassù sì già già con diciamo il nuovo testamento il cristianesimo questa cosa è entrata no quindi Cristo è molto più uomo che divinità esattamente sia nei racconti teologici sia nel nuovo testamento e meno ovviamente anche brutale l'antico testamento è una roba devastante chiaramente estremamente distante dall'uomo quindi già un pochino si è entrata se volete una volta facciamo qualcosa su Gesù e vediamo anche la sua brutalità sì no per carità però io pensavo fosse un tipo simpatico Gesù io no non era simpatico avrei qualche dubbio porca miseria avrei qualche dubbio vabbè sicuramente meno del padre però meno spietato del padre meno spietato con meno potere possiamo dire meno potere ecco dai mi dici una cosa che Gesù posso dire bippalo cioè una cosa che ha fatto Gesù diciamo Giosuè così nessuno sarà Giosuè che il nostro Giosuè dimmi una cosa cattiva che ha fatto Giosuè cattiva cattiva dai diciamo una cosa semplice di cui mai nessuno parla rivolgendo i suoi discepoli dice io prego per voi perché siete amici miei perché fate le cose che vi dico non per gli altri carino va bene un bel servilismo diciamo in posto eh carino e mi fermo qui no dai ce n'è una più brutta se ce n'è una più brutta dimmi la più brutta scusami Mauro ma la più brutta è alla fine che quelli che non che non lo seguono finiranno condannati per sempre ma non era lui che diceva perdonate fino a 70 volte 7 mi piace sempre a me queste cose 10 di euro mi viene un po' di durello due domande ma proprio che mi spingo proprio oltre vai vai mi assumo la responsabilità oggi siamo oltre la terra stiamo viaggiando andiamo oltre andiamo oltre la prima domanda che voglio farti è secondo te secondo te sono ancora qui di Elohim allora se io rispondessi sì o no dovrei darti delle prove chiaro siccome sono abituato a essere corretto con chi mi ascolta dico questo se un giorno si scoprirà che sono ancora qui non mi stupirò assolutamente chiaro no io invece mi domandavo se c'è mai stato qualcuno che ha contrastato perché sicuro ma c'è chi contrasta il tuo lavoro dialetticamente è inevitabile in maniera ci sta ok ma invece se c'è mai stato una sorta di di contrasto più più sneaky più sibillino più subdolo più quasi anguillante sì quasi non so come dire aiutami che intendi cioè nell'ombra no proprio cercare di di ah di di farlo fuori no di farlo fuori ma no di farlo fuori no però cercare di censurarlo no di discreditarlo no perché quello lo puoi fare dialetticamente proprio cercare non so qualcosa di più violento non lo so delle minacce allora anni fa anni fa poi per fortuna non è successo niente dovevo fare una conferenza a Milano era alla sera quindi sarei andato nel anzi no nel pomeriggio dovevo fare boicottaggio ecco nel pomeriggio dovevo fare un'intervista doppia con un arcivescovo ortodosso e alla sera dovevo fare una conferenza in un'associazione in tarda mattinata 11-11 e mezza mi telefona la persona che organizza la conferenza e mi dice siamo arrivati qui nel posto dove c'era la conferenza e mi ha mandato la foto c'era una busta con una pallottola e in questa busta c'era scritto che io non avrei dovuto fare quella conferenza quella sera era in un italiano incerto un po' incerto e che se avessi continuato a fare conferenze sarei stato sarebbero stati costretti a uccidere o me o qualcuno della mia famiglia arca miseria hai fatto denuncia passa loro l'hanno portata alla questura di Viale Monza passa mezz'ora mi chiamo un ispettore di Viale Monza deve venire giù dico guardi vengo giù oggi pomeriggio no no deve venire giù adesso sono andato giù ho fatto una deposizione al pomeriggio ho fatto l'intervista doppia con l'arcivescovo e alla sera ho fatto la conferenza con una volante della polizia che perquisiva tutti quelli che entravano questa è una cosa un'altra cosa è che su Facebook è stato scritto che con me bisognerebbe applicare il malicidio malicidio è una teoria che è stata elaborata da Bernardo di Chiaravalle San Bernardo che è colui che ha scritto la regola dei Templari e malicidio significa che uccidere uno che è considerato simbolo del male significa fare un piacere a Dio e quindi hanno scritto questo poi hanno cercato di screditare la mia persona in tutti i modi possibili immaginabili con immagini hanno cercato di farmi passare per antisemita in modo da mettermi contro ovviamente il mondo ebraico io ho un sacco di amici nel mondo ebraico che dicono la stessa cosa che dico io quindi non ci sono problemi quindi diciamo in questi 13 anni ho passato di tutto no perché che se ne dica che si sia d'accordo o meno una cosa è incontestabile che portare avanti queste idee sicuramente ci vuole del coraggio ci vuole coraggio e secondo me ti riempie anche la vita cioè io quello che ho sempre apprezzato di Mauro almeno quello che ho potuto intuire dall'esterno non conoscendoti è che hai è che hai la vita piena di esperienze anche che non hai mai vissuto di mondi cioè quando te vedo con quei con quelle montagne di libri è bello perché tu costantemente stimoli la creatività la ricerca lo studio tra l'altro poi purtroppo non c'è tempo però mi piacerebbe anche sapere il tuo metodo di studio perché anche ricordarsi quella mole di informazione non è facile e tornerebbe utile a molti e quindi hai una vita secondo me hai avuto una vita piena di di tanto tanto materiale come abbiamo detto prima ipotesi vero fittizio non importa cioè questa è una cosa che ti rende sicuramente vivo anche poi so che tu in realtà spesso viaggiavi anche facevi tanto sport eccetera però anche se uno rimanesse confinato all'interno della propria cameretta con tutta quella mole di informazioni comunque avrebbe vissuto una vita da giramondo secondo me questo lo trovo affascinantissimo hai assolutamente ragione concludo con l'ultima domanda come ti piacerebbe essere ricordato e chi porterà se c'è se esiste avanti il tuo lavoro allora una cosa che mi piace che mi dà grande soddisfazione e quindi riguarda anche il futuro è che ci sono un sacco di persone che mi scrivono tu mi hai fatto ritornare la voglia di studiare questo per me è il più grande risultato quindi se sarò ricordato come uno che ha fatto venire la voglia di studiare per me poi c'è questa persona che è qui davanti a me che è iscritta all'università di Gerusalemme ai corsi di ebraico e alla quale è già stato detto che se vorrà potrà fare l'insegnante di ebraico e con la quale ho già fatto anche dei video e quindi sarai in grado di portare avanti il mio lavoro perché è molto più giovane di me bellissimo spingiti oltre Mauro però va bene un uomo che ha fatto venire la voglia di studiare agli altri bello ma spingiti un po' oltre dimmi proprio il dream vero sicuramente non una statua ragionare con la propria testa senza prendere per vero tutto ciò che ci viene detto a partire dalle mie cose bene mi sembra un'ottima chiusa ringraziamo Mauro Biglino per essere stato con noi e ci vediamo una prossima puntata di Muschio Selvaggio grazie a voi ciao